Sono diversi gli enti anche in Abruzzo che dicono no all'ipotesi di nuove trivellazioni. A loro fianco anche quelli campani e lucani uniti per impugnare il nuovo piano ministeriale Pitesai che rischia di sbloccare le pratiche per i nuovi impianti di estrazione di idrocarburi. Vicenda che è tornata dopo diversi anni di strettissima attualità, soprattutto a causa della crisi energetica, ad annunciare il ricorso al TAR del Lazio e il coordinamento notribe che attraverso il costituzionalista, docente ed esperto in materia Enzo Di Salvatore ha subito lanciato un appello agli altri enti pubblici abruzzesi per unirsi alla battaglia. Le ragioni ce ne sono diverse ma principalmente c'è una evidente violazione della legge perché la legge del Parlamento con la quale appunto si sospendevano medio tempo delle attività per due anni chiedeva che il governo individuasse attraverso questo piano in modo rigoroso le aree per le quali consentire la ricerca e l'estrazione. Invece non si tratta di un piano, non c'è una pianificazione ma si tratta di un insieme di linee guida che dovrebbero guidare quindi la mano del Ministero nel rilascio dei permessi e delle concessioni e secondo criteri che però sono flessibili perché mentre per alcune aree assolutamente fatto di vieto di cercare di estrarre ma questo non c'era bisogno del Pite sai perché in realtà era già così perché quelle aree, quei divieti coincidono con i divieti già esistenti per altri invece questi criteri non sono rigorosi perché dipenderà da ciò che farà cioè dalla valutazione del Ministero che assumerà però come criterio primo il criterio economico quindi la convenienza economica a cercare di estrarre. Il gioco non vale assolutamente la candela e oltretutto diciamo l'incremento sarebbe assolutamente poco significativo perché noi è vero che dipendiamo dal gas russo nella misura percentuale del 40 per cento ma è anche vero che il momento il fabbisogno energetico nazionale diciamo questo si fa fronte con risorse proprie nella misura del 6 per cento e se mettessimo diciamo aprissimo a tutte queste nuove attività raggiungeremo al massimo due punti percentuali al massimo ma anche questo diciamo bisognerà vederlo perché in realtà la maggior parte del gas ricade entro i 12 miglia per i quali però giacimenti al momento è vietato all'estrazione